Fare una calata con i raccordi EcoFluids è veloce e semplice. Il modo più rapido e funzionale è partendo dalla valvola con distributori d'aria. Basta svitare semplicemente la ghiera ed inserire il tubo. Svitando la ghiera, inserisci il tubo nella calata. Smontando la parte superiore, puoi facilmente metterla sul tubo, decidendo nella posizione corretta rispetto all'utenza. Poi blocca il tutto. Ora basta che sviti il tappo e fori il tubo. Dopo aver chiuso il tappo, ricordati di mettere una leggera pressione all'impianto per permettere la rimozione di eventuali truccioli. Grazie alla sua specifica struttura, la calata EcoFluids permette di evitare che la condensa scenda lungo il tubo ed arrivi alla valvola. Segui tutti i passaggi per un montaggio sicuro, veloce ed efficiente. Grazie a tutti i passaggi per un montaggio sicuro.